che bomba finalmente cazzo veramente un onore essere qui bella ragazzi the basement direttamente da Bresso Radio Moclub inizia benvenuti a tutti buongiorno anzi buonasera Charlie benvenuta ciao ciao Moco che bello vederti qui nel tuo habitat naturale nooo uh huh uh huh I got a condo in Manhattan baby girl what's that? you and your ass invited so gonna get together ok I'm rainbow I'm ramshack I'm next to that cheese like rat traps on top of that green like grass ass that's what we are here like snap potrestare nudo tutto il santo giorno sotto la vestaglia tipo attore port mi sa che anche stanotte faccio mezzogiorno mi svegliere in salotto con le tigri da soggiorno nooo nooo io risponderei ne è valsa la pena ne è valsa veramente la pena nooo 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 my name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio ti basta un po' che bricciole lo stretto indispensabile sapete perché così tante storie sono ambientate nelle stazioni o negli aeroporti? secondo me sta tutto nel potere di un saluto dopo tutto sei tu che me lo hai insegnato le cose belle tornano sempre troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma dopo non 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 non